Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nel corso di mercoledì un impulso instabile attraverso il nord Italia interesserà anche la Liguria, seppur marginalmente rispetto alle regioni del nord-est. Avremo comunque variabilità con qualche equazione o temporale sparso e un leggero calo delle temperature. Per quanto riguarda la provincia di Imperia ci aspettiamo dunque maggiore instabilità sulle aree interne con equazioni temporali sparsi che potranno però localmente interessare anche le aree costiere. Temperature massime intorno ai 25-26 gradi. Anche sulla provincia di Savona avremo molte nubi con equazioni temporali sparsi in particolare sui settori interni ma che localmente interesseranno anche la parte meridionale della provincia di Savona. Per quanto riguarda l'area di Genova, giornata piuttosto variabile con occasione per dei fenomeni soprattutto sull'appennino e sull'area interna mentre sarà più asciutta l'area costiera. Dunque anche sul Tigulio la giornata sarà variabile ma appunto sulla costa non dovrebbe piovere e avremo tempo più asciutto. Invece sullo Spezzino avremo possibilità di maggiori fenomeni in giornata anche sull'area costiera oltre che sulle zone interne della Valvara. Nel corso di giovedì tempo miglioramento per il ripristino dell'anticinione della Zorra e dunque avremo una giornata più soleggiata con temperature in lieve ripresa massime comunque gradevoli intorno ai 28 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.